ciao da absim la presentazione di paolo fonseca ieri 8 luglio arrivo un po in ritardo se di ritardo possiamo parlare perché comunque cerchiamo di incasellare un po tutti i contenuti che possono essere interessanti e rilevanti anche se il giorno dopo perché come ha detto fonseca la fretta è nemica della qualità è nemica del successo insomma non bisogna andare di fretta per fare le cose bene e quindi quando è possibile parliamo parliamo di calcio parliamo di calcio giocato parliamo delle prospettive di calcio giocato la prospettiva del milan questa presentazione questa conferenza stampa di presentazione di paolo fonseca come nuovo allenatore del milan dopo essere stato annunciato da zlatan ibrahimovic in assenza di paolo fonseca una situazione già abbastanza imbarazzante e abbiamo parlato di questo abbiamo parlato di un milan che dialoga in maniera poco condivisibile che fa anche un po una pagliacciata in quella presentazione di ibrahimovic con pochissime domande serie con pochissime domande vere con un'introduzione autoreferenziale e autocelebrativa e anche un prosieguo autocelebrativo questa volta si è andati di più nello specifico si è provato a parlare di calcio paolo fonseca ha provato a parlare di calcio ibrahimovic ha stoppato questo dicendo non possiamo comunque raccontare tutta la tattica tutta quanta insieme scherzando anche su questo poi si è parlato anche di mercato si è parlato di che tipo di calcio si vuole fare ma io vedo un paolo fonseca ostaggio di un milan che si presenta in maniera poco chiara poco definita poco lineare poco rassicurante nei confronti dei tifosi che giustamente sono in contestazione più o meno aperta più o meno categorica più o meno ampia ma comunque sono insoddisfatti e comunque sono critici tra l'altro c'è stato anche un dettaglio un momento in cui paolo fonseca si è toccato il naso mentre parlava bene di ibrahimovic definendolo un punto di riferimento per tutti chi studia queste cose sa che toccarsi il naso quando si dice qualcosa è segno di benzogna è segno di una piccola bugia di non essere convinti di quello che si sta dicendo e dico paolo fonseca ostaggio anche per questa presenza incombente e ingombrante di ibrahimovic al suo fianco per il fatto che paolo fonseca non riusciva mai ad attivare il microfono poi non ho capito se lo spegneva lui o io lo spegnevano e dici vabbè ma questo che conta rispetto a quello che andrà a fare in campo conta perché come ti presenti adesso le condizioni in cui stai e ci arrivo anche a dire altre cose sull'approccio di paolo fonseca dicono come lavorerai e come lavorerai dice quello che riuscirai ad ottenere e anche quando nel cercare supporto su determinate parole se si dice non si dice in un certo modo un fonseca che comunque mastica bene l'italiano lo mastica proprio cioè nel senso che lo parla un po' masticato ma lo mastica si rivolgeva alla sua destra al responsabile comunicazione quindi un fonseca che non guarda tanto dritto guarda molto verso il basso non guarda tanto negli occhi l'interlocutore se non in alcuni momenti intervallati da sguardi buttati altrove e sembra molto sulla difensiva lui che parla di calcio offensivo lui che parla di calcio proattivo che parla di difesa alta altissima di recuperare immediatamente il pallone di non fare uomo su uomo tutto campo perché non fa parte del suo calcio ma di attaccare negli ultimi 30 metri in risposta a un giornalista che gli chiede forse i tanti gol presi dal milan l'anno scorso sono dipesi da una eccessiva propensione all'attacco dei centrocampisti che invece dovrebbero difendere più di più lui dice in realtà devono attaccare ancora di più in realtà stiamo parlando di un giornalista che ha chiaro il concetto di che cosa significa attaccare difendere forse non tanto almeno non il mio concetto perché non significa nulla difendere e attaccare per un centrocampista perché tu difendi attaccando andando a recuperare il pallone e attacchi difendendo il pallone il punto di riferimento come dice tiago motta magari non lo dice fonseca è il pallone c'è chi invece mette l'avversario come punto di riferimento ma il punto di riferimento il pallone nel senso che quando hai il possesso del pallone difendi il possesso del pallone quando non ce l'hai attacchi il possesso del pallone avversario quindi l'attacco e difesa e la difesa e attacco in un certo senso però poi e sembra quasi che fonseca si sia dovuto presentare in maniera il più possibile convincente cercando di convincere si è parlato anche di convincere i tifosi scettici altra domanda che forse è irrispettosa nei confronti dei tifosi perché i tifosi hanno il diritto di essere scettici e nessuno li deve convincere mi sarebbe piaciuto se fonseca avesse risposto io non devo convincere nessuno invece lui ha detto io sento la responsabilità di convincere questi tifosi che in senso costruttivo va anche bene significa mi impegnerò per dare il massimo per fare questo calcio dominante per attaccare di più per vincere poi arriviamo anche al discorso vincere però un approccio sulla difensiva ripeto di fonseca come se gli avessero fatto già il lavaggio del cervello di presentarsi in un certo modo per essere convincente perché il milan è in contrasto con i tifosi i tifosi sono in contrasto con il milan e questo è raccontato anche dalla presenza di ibraimovic che c'entra ibraimovic con la presentazione di paolo fonseca onestamente zata ibraimovic non è dipendente del milan è dipendente di redbird chi è il rappresentante del milan il dipendente del milan dirigente del milan che si è assunto la responsabilità in prima persona di portare paolo fonseca davanti ai giornalisti e quindi immediatamente davanti ai tifosi attraverso i giornalisti attraverso la conferenza stampa nessuno solo il responsabile comunicazione che svolge un ruolo pratico operativo non un ruolo di responsabilità e di assunzione di responsabilità rispetto ad una scelta perché questa scelta di accompagnare fonseca con ibraimovic che poi tra l'altro è stato molto deludente per quanto riguarda il mercato e soprattutto per quanto riguarda il discorso zirk zei non vale a nulla dire zirk zei è il passato ci sono procuratori che creano problemi altri che li risolvono perché se zirk zei lo vuoi prendere lo sai che c'è una situazione sul procuratore ma nel momento in cui c'è una situazione sul procuratore e magari non lo sai il momento dopo che lo apprendi un secondo dopo molli la trattativa se non sei d'accordo non vai avanti per settimane illudendo i tifosi e te stesso e l'allenatore che stai facendo una determinata scelta poi ti tiri indietro e miracolosamente fonseca ibraimovic la dirigenza del milan sanno chi è mister x che poi è morata sanno chi è mister x sono convinti di lui e alla fine lo corteggeranno lo convinceranno e anche se con calma arriverà il che tra l'altro significa scarsissima forza se ne rendono conto cioè dover convincere morata con un triennale a tanti soldi significa che sei disperato e non solo per morata ma perché devi convincere un giocatore ad entrare nel tuo progetto a metà luglio quasi non va bene questa cosa non la puoi andare a raccontare ai tifosi non è un discorso gli ultras non sono presenti mostrano supporto condizionato solo alcuni momenti certi tifosi sì certi tifosi no non è quello è come tu ti stai presentando noi lavoriamo per i tifosi e chi ci crede chi crede a ibraimovic che questo milan lavora per i tifosi e non per i soldi la gloria personale gli obiettivi magari i bonus la soddisfazione imprenditoriale manageriale professionale ci credono in pochi in questo momento che poi certi obiettivi possano coincidere con gli obiettivi dei tifosi diventa quasi una coincidenza e allora si è parlato di vincere a me onestamente non è piaciuto questo ve ne farete una ragione andrete avanti lo stesso senza il mio gradimento ci mancherebbe ma ripeto mi sembra un fonseca sulla difensiva costretto a presentarsi come quello che sa quello che deve fare con delle parole precise per essere smisuratamente convincente per cercare freneticamente di essere il più convincente possibile l'ha sofferta questa conferenza stampa fonseca ora che credibilità ha un allenatore che io rispetto stimo e a cui auguro il meglio e di cui ho fiducia perché possa fare un grande lavoro al milan che si presenta parlando di calcio dominante quando non è in grado di dominare neanche la conferenza stampa e non solo perché non riesce ad accendere il microfono ma perché si vede che ha dei fantasmi addosso ha il fantasma di essere come ibrahimovic vuole che sia come la dirigenza vuole che sia e soprattutto in reazione a quello che è stato pioli mai nominato non va bene fonseca doveva sedersi e ringraziare stefano pioli doveva ringraziare stefano pioli sarebbe stato contestato dai tifosi no e sarebbe stato contestato dai tifosi che non capiscono che non avrebbero capito che nella continuità di un lavoro si ringrazia sempre quello che c'è stato prima infatti vedremo tiacomotta se ringrazierà e lo dovrà fare dovrà ringraziare chi ha lavorato prima e lo dico io figuriamoci se lo dico io perché comunque c'è stato un lavoro poi che i giornalisti che magari finché pioli era in panchina certe domande non le facevano che magari finché pioli era in panchina queste certe domande non le facevano tra parentesi punto interrogativo chiusa parentesi vadano a esporre a fonseca il problema degli infortuni il problema del dei gol presi il problema del gioco e lui appunto si presenti per reazioni a dire non vi preoccupate che giocheremo meglio i premi invece addirittura che dice te guardantes con il calcio di fonseca giocherà ancora meglio anche prima ma adesso ancora meglio allora o dici o non dici però e mi sembra anche un giochino molto facile un po una vigliaccata finché c'è pioli certe contestazioni certe critiche non le fai e magari vai anche ad arginarle sempre per ringraziarti il tuo interlocutore se ne va pioli non si deve neanche nominare pioli e all'improvviso era tutta colpa di pioli certo ebrahimo ci ha parlato anche di staff medico per quanto riguarda gli infortuni nello specifico quindi un'assunzione di responsabilità un pochino più allargata ma sapete come la penso di pioli pioli è stato un disastro in questa stagione al milan ha rovinato un buon mercato che era stato fatto l'estate scorsa buonissimi giocatori fonseca dice abbiamo grandissimi giocatori ottimi giocatori bisogna giocare di qualità giocheremo di qualità quello per me è importante però poi bisogna vincere c'è milan futuro con tanti bravi giocatori i giocatori del milan comunque li conosco tutti anche se non ho ancora un rapporto personale con loro a parte il connazionale leao servono dei rinforzi in un paio di caselle priorità all'attaccante poi ci sarebbe anche il difensore però appunto si parla di qualità del gioco si parla di miglioramento giustamente perché rispetto a quello che si è fatto prima si deve migliorare per me pioli avrebbe dovuto chiudere in anticipo questa esperienza ma riavvolgiamo un po il nastro perché pioli è stato venuto in panchina perché cardinale tra pioli e maldini ha scelto pioli perché cardinale tra pioli e maldini ha scelto pioli e ibraimovic tra pioli e maldini ha scelto ha scelto pioli nel senso per quello che ibraimovic conta al di là delle tempistiche della cronologia come consulente e magari già prima di diventarlo effettivamente e poi appunto si parla di vincere ma perché fonseca si deve presentare e parlare di vincere perché deve già porsi questa ambizione ma anche questo condizionamento dove sta scritto che il milan deve vincere un trofeo quest'anno perché l'inter ha vinto la seconda stella e quindi c'è questa smania questa corsa di andare a fare la seconda stella e discorso anche l'allenatore straniero che vince in italia non si vince da murigno anche la prima stella la vince un allenatore straniero tutte suggestioni interessanti i sei derby cioè ma anche qui fare la domanda sui sei derby sugli infortuni sulla qualità del gioco sui gol presi senza avere la decenza di nominare stefano pioli non lo trovo molto corretto ma non perché bisogna portare rispetto a pioli o perché pioli certo anche o perché pioli ha fatto qualcosa di qualcosa di particolare di positivo che dobbiamo ricordare ma semplicemente perché se tu stai criticando pioli devi avere anche il coraggio e la responsabilità di nominarlo di specificare fonseca si è mantenuto cauto senza fare paragoni con il passato e dicendo semplicemente quello che vuole fare lui in questo senso è stato molto bravo ma perché porsi queste aspettative così elevate di portare un trofeo il milan deve giocare a calcio e prima cercate di giocare a calcio bene poi in base alla forza che riuscite ad acquisire con il lavoro andate anche a vincere un trofeo eventualmente ma non ti puoi presentare dicendo faremo calcio dominante attaccheremo sempre in avanti giocheremo negli ultimi 30 metri quindi ci serve un attaccante da ultimi 30 metri mi viene da chiedere che cavolo c'entra zirk zè zirk zè è tutto tranne che un attaccante da ultimi 30 metri perché negli ultimi 30 metri zirk zè fa anche il centrocampista tant'è che se mi vai a prendere morata non puoi neanche aver pensato a zirk zè se zirk zè è il passato vuol dire che è esistito se è esistito non mi vai a prendere morata troppe cose che non sto che non tornano troppe cose che stonano troppe cose che non si trovano troppa poca chiarezza troppe ipocrisia troppe contraddizioni quindi milan parte bene in questa stagione in relazione all'impegno la professionalità la serietà le competenze di paolo fonseca e meno male e meno male che neanche lo volevano i tifosi ma soprattutto che neanche era la prima scelta di questa dirigenza che infatti non se ne assume la responsabilità con una presenza fisica lì a farsi vedere e a parlare e a parlare che cosa diranno che erano impegnati a fare calciomercato cosa andare a convincere morata mentre presentavano paolo fonseca mi sembra un po ridicolo tutto questo quindi auguri a paolo fonseca auguri al milan forza milan nel senso di fare il meglio di essere forte il milan più forte possibile in questa stagione ma io vedo un fonseca ostaggio di troppi fantasmi di troppi nomi attorno di troppi personaggi di troppi condizionamenti troppe aspettative cioè già il fatto di migliorare il gioco sarebbe un grande obiettivo per fonseca dargli anche prendersi anche da solo ma evidentemente perché gliel'hanno suggerito di parlare così la responsabilità di andare a vincere un trofeo che fosse magari addirittura lo scudetto così debotto non che il milan non sia in grado di vincere lo scudetto l'ha vinto di recente ma prima di tutto bisogna giocare a calcio bisogna ripristinare un tessuto di gioco ma è un nuovo allenatore quindi serve tempo serve lavoro sarebbe una presa in giro è una presa in giro presentarsi ai tifosi e promettere la luna e promettere trofei ma che trofei vuoi promettere devi innanzitutto lavorare se non hai ancora iniziato a lavorare non conosci veramente i giocatori e tutta la struttura e tutto quanto non puoi dire che cosa andrai a fare poi è chiaro che ti poni l'obiettivo l'obiettivo di lottare per lo scudetto per la coppa italia per tutte le competizioni in cui sei dentro l'obiettivo di lottare innanzitutto lavorando bene per giocare bene a calcio secondo come vuole giocare fonseca non uomo su uomo a tutto campo ma solo in alcune porzioni riaggressione alta calcio dominante calcio offensivo calcio spettacolare calcio attrattivo come vuole fare lui ma lavorando bene per giocare bene poi i trofei eventualmente arriveranno e quindi mi sa che fonseca avrebbe voluto presentarsi in maniera diversa guardando anche la sua comunicazione non verbale è anche un personaggio diverso tutt'altro che arrogante tutt'altro che supponente come lo hanno voluto presentare tutt'altro che egoico e quindi mi sembra che sia già in sofferenza mi parte che mi pare che parta già in sofferenza in un contesto milan che lo potrebbe fagocitare quindi veramente auguri a paolo fonseca buon lavoro e auguri anche ai milanisti di sostegno nella critica per un milan che deve tornare forte grazie per la vostra attenzione seguitemi da tutti i link in descrizione compreso spotify dove potete guardarmi e ascoltarmi ci vediamo molto presto e per il calcio voglio un allenatore grazie a tutti